Dobbiamo in prima istanza porci una domanda, perché oggi siamo qui. Noi, istituzione laica, INAIL, ente pubblico, istituzione laica, in un luogo dove la religiosità si percepisce. Quindi, l'ultima parola che Padre Rehan ha detto, fare insieme, ci ha convinti a fare insieme delle cose. Noi siamo un'istituzione laica, come dobbiamo essere, ci siamo resi conto che per parlare di etica della prevenzione dovevamo parlare con qualcuno che l'etica la gestisse anche con le parole, oltre che con l'azione quotidiana. Per cui, fra i tanti corsi di etica che ci sono in giro, alcuni amici, insomma, io partecipo ad alcuni corsi di etica, però corsi già strutturati, noi ci siamo spinti a voler fare una piccola cosa in più. Non attualizzare un corso di etica che già c'era all'università, piuttosto che in altre istituzioni cattoliche che io frequento e che molti di noi frequentano, ma realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa in un luogo dove si facesse cultura dell'etica e cultura filosofica dell'etica, nella nostra, in quella che io definisco nella nostra etica pratica. E qui voglio leggere, perché se no mi sfuggono dei processi, ed è questa. Io sono un funzionario pubblico come la maggior parte delle persone che stanno qui, quindi come persona al servizio della collettività, in quanto dipendente di un ente pubblico, che ha per missione la sicurezza dei lavoratori e non solo, ci siamo interrogati sul come INAIL potesse perseguire quell'obiettivo che lei ha definito Eden, no? Sulla missione impossibile e infortuni zero. Per noi è una missione sognata, agognata, ma in questo momento è impossibile, perché gli eventi infortunistici accadono e molte famiglie, molte persone rimangono drammaticamente colpite da questi eventi. La risposta a noi che discutiamo quasi quotidianamente di questi problemi, la risposta è arrivata spontanea attraverso l'esame dell'osservazione delle politiche e dei comportamenti messi in atto dall'ente, nella sua ultracentenaria esistenza. Il tecnicismo del testo unico 38 del 2000, magari da questa parte del tavolo, non è compreso, per noi che stiamo dall'altra parte è compreso. Il testo, il decreto legislativo 38 del 2000, è il nuovo testo unico, ma soprattutto il decreto legislativo 38 pone un obiettivo principale, mette l'uomo al centro. E ormai sono 10-11 anni in cui noi parliamo di uomo al centro, uomo al centro, uomo al centro, prendersi cura, prendersi in carico il lavoratore, tutela integrale del lavoratore. Sono tutte parole che hanno avuto un significato all'interno dell'ente che negli ultimi 10 anni, con tutto il modernismo che c'è stato dell'informatica, del decentramento del lavoro, delle nuove tecnologie, hanno fatto fare all'ente un passo indietro di 60 anni. Questo passo indietro di 60 anni è stato un passo evolutivo, perché INAIL nasce come assicurazione sociale che si prendeva carico dei lavoratori. I primi corsi di prevenzione l'INAIL ha fatti nel 1950. Quei corsi di prevenzione e di attualizzazione del rischio sono quanto di più moderni oggi abbiamo nell'istituto. Rileggendo queste, prendersi cura e carico del lavoratore nella formazione, sono di un'attualità pazzesca. Sono ancora nelle corde dell'INAIL, le paraolimpiadi del 60, 1960, quando INAIL realizzò a Roma le paraolimpiadi, prendendosi cura degli infortunati. Noi rammentiamo e facciamo sempre, avendo posto al centro l'uomo in tutte le sue peculiarità, come si allenò a Roma la nazionale di basket degli infortunati da lavoro. Esisteva una sola squadra a Roma. Per allenare queste persone, sei persone dell'INAIL, fra infermieri e medici, d'estate si siedono sulla sedia a rotelle e allenano queste persone. Quindi, questa coscienza sociale che INAIL, in 120 anni di storia, ha avuto dentro di sé, è rimasta per un certo numero di anni soppita. Soppita da che cosa? Soppita dalle carte, giuste, corrette, dalla burocrazia, dai problemi interni. Dal 2000 in poi, la norma intesa, inteso concetto e evoluto del nostro operare, ci dà la nuova possibilità, che era la vecchia possibilità e il vecchio sogno di INAIL. Che era quella di mettere la persona al centro, non il lavoratore, la persona, anche il lavoratore. E come tale, in ogni momento della nostra azione burocratica quotidiana, e lo sanno bene tutte le persone, i medici in particolare, che incontrano quotidianamente persone che hanno subito infortuni, o famiglie di persone che hanno subito un evento mortale dal lavoro. Allora, in ogni momento della propria azione quotidiana, forzano, tra virgolette, quelle che sono le regole che io definisco che non ci permetterebbero, ma neanche, di risolvere tutti i problemi. Quindi noi quotidianamente, proprio mossi da quel sogno di non avere infortuni zero, e mossi dall'idea che un INAIL per il sociale si deve prendere cura degli altri. Nel concetto duale, che qui voglio elencare, tant'è che io mi ero preparato un intervento che riguardava la vita, la morte, la morte, la resurrezione, l'amore, l'odio, il bene e il male. Ovviamente questo è uno scherzo. Però il concetto del bene comune, un ente pubblico come INAIL, un'istituzione sociale come INAIL ce lo deve avere. Allora, per concludere, è proprio del bene che voglio parlare. Un bene che io sogno, un bene che io ritengo coerente con la nostra missione, e utilizzerò questo libro, che è un libro quanto di più laico ci possa essere in questo momento. È un'intervista fatta da Giovanni Paolo molti anni fa, ma io ce l'avevo, l'ho ritrovato e ho trovato il concetto di bene, un concetto aderente al mio vissuto. Oddio, scusatemi, non volevo dire aderente al mio vissuto. Aderente all'idea che io odi bene. Padre Ryan mi ha bruciato in tanti elementi, perché quello che ha detto padre Ryan, sintetizzato, è un po' quello che in questa intervista quest'uomo ormai è diventato beato, ma comunque non mi interessa il fatto che sia o no diventato beato. Io rappresento un'associazione laica e io voglio leggere il laicismo di queste parole. E' completo. Nell'agire umano le varie facoltà spirituali tendono ad una sintesi. In questa sintesi il ruolo guida viene svolto dalla volontà. Quante volte ci siamo detti che volere ci permette di superare i limiti. La volontà è una delle parti importanti dell'essere uomo, dell'agire nell'essere uomo. Il soggetto imprime così all'agire la propria razionalità. Gli atti umani sono liberi. Padre Ryan parlava di libertà. Siamo liberi di determinare la nostra vita. In ogni azione che noi compiamo quotidianamente nella nostra attività burocratica siamo liberi di dire sì o di dire no. Ovviamente né il sì e né il no sono esenti da conseguenze. Allora, gli atti umani sono liberi e in quanto tali chiamano in causa la responsabilità. Non soltanto la responsabilità davanti alla Corte dei Conti. La responsabilità della nostra coscienza rispetto all'uomo che abbiamo davanti e che da noi viene per un bisogno. L'uomo vuole un dato bene e lo sceglie. È conseguentemente responsabile della propria scelta. Sullo sfondo di questa visione del bene, metafisica e nello stesso tempo antropologica, si impone una distinzione di carattere propriamente etico. È la distinzione tra il bene giusto, il bene utile e il bene piacevole. Allora, qui definisce, ovviamente, non sto qui a definire come viene descritto, il bene giusto, il bene utile, il bene piacevole. Quando noi facciamo il nostro dovere e ci sentiamo di fare il nostro dovere, la domanda che vi pongo è bene giusto? Ti prendi nel fare bene, nel fare il bene che credi di fare, ti colleghi alla persona e vedi quella persona come se fossi te stesso o pensi all'utilità che da quel bene può derivare anche a te? Questo corso nasce per questo motivo. Per far capire a noi stessi, tenendo conto che mediamente ognuno di noi fa il proprio dovere, che è una piccolissima parte del bene, è una piccolissima parte del bene, in ogni azione ritenuta bene, vorrei che ci facessimo questa domanda e voi ci aiuterete a dare questa risposta. se è bene giusto, bene utile o bene edonistico o bene piacevole. La mia idea del bene è ovviamente, non potrei dire diversamente, quella del bene giusto. Perché nel bene giusto c'è il bene utile e il bene piacevole. Sono felice del bene che faccio. Se noi riuscissimo in queste poche giornate di studio a far entrare dentro di noi questa sindrome ad ampliare la nostra coscienza che già è alta, la nostra coscienza laica che è già alta, nel far sì che il bene diventasse un bene unico nei confronti di tutti e non solo della comunità a cui facciamo parte, ebbene, il nostro obiettivo sarebbe raggiunto. Vi ringrazio e io mi sposto dall'altra parte per ascoltare quello che direte. Grazie. 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 Grazie a tutti.